Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui con questo sfondo che se vi ricordate ho fatto la mia primissima intervista ci riprese per questa parte ma ora non c'è più ovviamente oggi siamo qui perchè ho comprato più che altro credo sia stato l'ultimo a saperlo che sono arrivati i caffè starbucks quindi americani fondamentalmente in italia, infatti guardatene ho tre, li assaggeriamo a tutti cappuccino, cioccolato e caramello macchiato quindi li assaggeriamo a tutti sono le 9 di mattina oggi è quello di quelle volte che appena mi sveglio devo fare per forza il video c'è la cannuccia già il loro pezzo è un po' elevato sinceramente so che comunque come dice il sito questi qua vengono fatti da proprio caffetterie starbucks quindi sono veri più che altro non sono cicetti si omigliano in secco il loro pezzo è di 2,50 euro quindi è qualche assaggiamo quello cappuccino già inserito beh niente male buono pure essendo non caldo quindi cappuccino freddo si sente si sente molto buono ovviamente devono stare in frigo perché se no si può dire fanno brutti diciamo non so caldi come sono però non saranno come quelli freddi cioccolato anche questo niente male si sente il cioccolato proprio il sapore proprio del cacao fondamentalmente si anche questo molto buono e ora quello là che mi incuriosisce di più il caramello macchiato sono da 220 millilitri quindi anche un po' più grandi di quelli che danno al proprio la caffè mangiamo il caffite al al bar buono si sente il caramello molto buono beh ragazzi ora io li berrò tutti quanti non tutti perché non li berrò tutti e tre io completi quindi ragazzi io vi ringrazio di questi tre beh ma come sa pure sono tutti e tre buoni magari che bevono un po' di più il cappuccino quindi sono un po' più abituato a bere questo più che ovviamente a questo che è la prima volta che lo bevo quindi cambia cambia un po' vi ringrazio per aver visto questo video quindi iscrivetevi campanelline iscrivetevi anche al canale di tiktok che sono buoni da provare se sono nella vostra città compraterli sono buonissime quindi ci vediamo domani per un prossimo video ciao ciao